Ennesima follia della premiata ditta Renzi Alfano, vogliono introdurre l'obbligatorietà dell'accoglienza per tutti i sindaci in Italia. Oggi sappiamo che solamente 800 sindaci su oltre 8000 comuni hanno dato la propria disponibilità. Lo abbiamo scoperto dalle parole del prefetto Mario Morcone che è il portavoce di questo governo. Una follia, una follia soprattutto alla luce del fatto che i sindaci spesso si rifiutano di accogliere i clandestini sul proprio territorio, in particolare per questioni legate alla sicurezza in primis e in secondo luogo perché ritengono giustamente che forse sarebbe più utile aiutare gli italiani in difficoltà piuttosto che i clandestini.